scena 1 1 settima ok ok ed è buona azione ma che fai fermo il gioco dici che se ne vanno se noi ti con un galinano 8 prima decima pietro vediamo se già sei pronto per fare il primo sale ti persuadi quando caglio ci vuole nel suo latte? eh? papà prendi la noce di caglio prendi la noce di caglio a mettere l'acqua calda a mettere l'acqua calda a scuagli a scuagli a mettere l'acqua ieri ho aiutato mio padre a mungere i piccoli per fare la ricotta mio padre era da solo perché mio frate è andato a fare la visita militare la prima piccola è stata mungiata con ciccina 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 ve lo apriamo a cena così in ghettina per fare la bella ricotta pietro pietro a scuagli a cucciopate che è pronto di mangiare pronti è? prendi esempio da pietro lui si si impegna ama gli animali è creativo ama la natura non so come sta imbrogliando che c'è scritto ape non l'ape no Samiché chi sei l'apostro? l'apostro pure è che è nata l'ape che ha un canoscio sape tante cose come anche professore per esempio manco capobanna sape dare per l'autunno alle campane come un Samichéle ma che anno si piccola che non camina? ma hai mai visto il ragazzo lavorare in campagna? e a parte lavorare in campagna lo studi ma perché lavorare in campagna vuol dire non andare a scuola vado via mi ricordo i racconti di mio padre dipingevano quella fresca della mia terra ed io lo porterò sempre nella mia memoria profumato questo topoleto con una coperta di leno vengale lo diterò in affidamento a una famiglia della scibetta che lo tratto sempre male poi quando cresci si fece la sorciata scena 26.5.15.3 grazie ma che lo portaste a fare questo coso che c'è all'orchestra? non so che ti hai portato è un grazie a Dio che ti hai portato ma se mi starca sono un ingrazzato mio oggi è una mia giornata buongiorno buongiorno e tanti auguri a tutti io che avete premura di puliziarvi tutte le cose prima facete i peccati e i danni e poi mi avete l'ora di puliziarvi tutte le cose vero? prima la preghierina il nome del padre del figlio e dello spirito santo campagna Pietro prima e seconda ok Pietro Pietro Pietro, a chiara con i tuoi barri che proviene a mangiare! Pietro, Pietro, a chiara con i tuoi barri che proviene a mangiare! Il nostro canale è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.